Benvenuti a questa nuova puntata di Resident Evil 4 Dopo aver lottato con uno dei generali O forse è un vittorio di capo Comunque, sono riuscito a ammazzarle E a prendere l'occhio artificiale che non so che cosa mi serva Quindi, torno alla funeria adesso Continuiamo lava Poi c'è pronto della controllare Beh, assi La quale è qua Non guarda Non guarda Aspetta togliamo la mappa, ho capito dove devo andare, devo andare con una fumiglia, avete visto quella porta d'oro che non sono neanche andato a vedere se è aperta, devo andare lì e penso che l'occhio l'occhio che ho trovato e l'occhio del capellino in lato serve ad aprire la porta, bene, ora siamo là, ovviamente ci saranno quelli dei zombie, quando fare no, ma non mi finito mai vabbè, sariamo alla filiglia, va? ah, bene, sono saliti senza difficoltà qua non c'è tutto attenzioni boscata voglio così ecco la porta ecco fatto la porta è aperta un castello bello ma purtroppo c'è l'accoglienza gioco il fucile, va? alziamo un po' gli uzzicchi l'azzo alziamo un po' gli uzzicchi l'azzo posso irruppela pelato? agarvela bene, non sembra che sia nessun altro quindi andiamo oh cavolo un camion ecco fatto ho passato il guidatore si dovrebbe fermare bella meno male che l'ho beccato in pieno o mi investiva oh oh mi sa che si stanno inseguendo da dietro controllo controllo solo un attimo si direi di scappare al castello immediatamente una mossa il lato sta coprendo si cerchiamo di farcela eh ah 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 bene come fate bene siamo riuscito a sfuggire agli zombie e questo capitolo finisce qui e anche questo episodio quindi alla prossima è